Ciao ragazzi, volevo presentarvi il mio cellulare. Ne avete sentito parlare tante volte in chat, è quello con cui io sviluppo il software, e tanti di voi ci sono chiesti, ma perché? E in effetti può sembrare molto strano e anche un po' masochistico sviluppare software sul cellulare. In realtà a me piace molto. Primo perché lavoro molto nei ritagli di tempo e il cellulare mi permette di lavorare dove voglio e quando voglio. E secondo perché è comodo la sera quando ho più tempo per questo hobby, preferisco sinceramente mettermi in poltrona o anche sul letto, bello comodo, e dedicarmi alla programmazione piuttosto che mettermi ancora un'ora o due sulla scrivente. L'altro motivo è che mi piace usare meno risorse possibili. Abbiamo parlato varie volte, diciata anche della programmazione Emish, usando strumenti che sembrano inadeguati, poveri, e pure è proprio ciò che contrasta l'esplosione di complessità, di spreco di risorse che tanto c'è antipagno. Se riesco a sviluppare con un cellulare, so di aver usato il minimo delle risorse necessarie e questo mi rende soddisfatto. Allora adesso nel seguito del video vi mostrerò due cose. Come sviluppo sul cellulare, con quali strumenti, poi brevemente che cosa faccio, soprattutto nell'ambito del nostro amato linguaggio di programma. Allora, alle prossime parti del video. Benissimo, iniziamo. Installiamo ora lo strumento principale. Lo troviamo su Play Store. Si chiama Termux. Come vedremo è un ambiente Linux con interfaccia terminale ed è adattato all'uso su cellulare. L'installazione è abbastanza rapida. Ecco, sta andando. E voilà. Siamo nella home del sistema. Come vedete, eccola. È un sistema con prefisso. Il prefisso è questo. E ora andiamo nella base del sistema. Ok, ci sono consueti comandi. E adesso vediamo un pochettino una lista degli eseguibili installati. Il terminale ha le funzioni consuete di scroll e anche di zoom. Inoltre, vedete, si possono aprire più sessioni e switchare tra l'una e l'altra. Ora cambiamo tastiera. Useremo Hackers Keyboard. Il suo vantaggio è di avere tutti i tasti necessari e di occupare meno posto. I tasti sono effettivamente piccoli, ma con un po' di abitudine sono. Una caratteristica molto importante di Termux è la gestione dei pacchetti tramite APT. Ora, per esempio, installiamo Vim, il mio editor preferito. Ci sono tanti pacchetti disponibili. Questo è molto comodo. Ecco, l'installazione di Vim è abbastanza rapida. Ora lo proviamo. Una caratteristica importante di Termux è che supporta anche il mouse virtuale, cioè tramite il touchscreen si può simulare i click del mouse e quindi selezionare la posizione in Vim. Benissimo, tutto regolare. Ecco, ci sono, come vi dicevo, tanti altri pacchetti disponibili che poi instatterò. Quando è necessario accedere alla potenza di calcolo di un vero computer, uso SecureShell. Ora mi collego al computer del mio studio. Lancio una sessione Screen. Dentro Screen lancio una compilazione, la compilazione del nostro RENSI. Le sessioni Screen sono molto comode perché si può uscire e rientrare senza interromperle, se per esempio la connessione venisse meno oppure se nel frattempo si vuole lavorare. Ora usciamo. Qui siamo sul cellulare. Se in un secondo momento rientriamo, possiamo controllare che la compilazione è continuata regolarmente. Ci ricolleghiamo a Screen ed ecco qui la sessione in corso. Bene. Ora usciamo e torniamo sul cellulare. Eccoci qua. Un'altra applicazione che ci permette di collegarci al PC dal cellulare è VNC, connessione grafica. Ecco qui siamo nel desktop del PC. Si usa il Touch Screen come se fosse un Touch Pad. Ci sono le ovvie funzioni di Zoom. E possiamo provare a usare Open Office. Ecco qui proviamo ad aprire un documento, se riesce abbastanza bene. Ok, lo vedete qua. È il calendario della parrocchia. Se volessimo potremmo anche modificarlo, ma ora non ne abbiamo l'intenzione. Ok, chiudiamo l'applicazione e torniamo al nostro terminale. Ora proviamo a costruire una app. Innanzitutto ci serve JIT, l'ho già installato per brevità, e poi andiamo a clonare il mio repositorio Rebol Server. Ecco fatto. Come vedete è molto rapido. Ora andiamo nel repositorio e costruiamo l'app con un comando da bash. È molto amish tutto questo. La tastiera ci dà un po' di problemi. Ma questo è un male necessario. Ok, ecco fatto. Innanzitutto si scaricano automaticamente le ultime versioni sia della libreria JavaScript sia dell'eseguibile Android. Mancano degli applicativi necessari a costruire l'app, poi li installeremo. Intanto si scarica anche la libreria Android. Andiamo a installare gli applicativi necessari per la costruzione dell'app. Tutto da linea di comando. Non servono ambienti di sviluppo grafici. L'unica cosa è che zipaligno si trova nel repositorio APT. Ok, installiamoli e rifacciamo il build precedente. Ecco fatto. Ora viene lanciata direttamente la costruzione dell'app che viene salvata. Vedete che è piuttosto rapido. Viene salvata nella directory bin. Andiamo ad aprirla. è qui, sotto prog. Ecco fatto. Vedete, è la pk che ora apriamo e installiamo. Ok. Apriamola. Eccola qua. Rebol Server, come dice il nome, è un server HTTP Rebol che serve il browser. Grazie a questo possiamo far girare la console JavaScript direttamente offline. Abbiamo messo offline il telefono. Vedete che gira tutto bene. Facciamo una prova. Ok. L'altro uso direbbe il server è la navigazione dei file del telefono in una maniera sempre un po' emish, un po' rudimentale però vedete funziona. Vediamo la SD card torniamo indietro guardiamo le app installate c'è solo la console R3 che possiamo aprire anche da qui. Ok. vediamo cosa offre Rebol Server innanzitutto offre una console JavaScript la stessa che gira su Rep.pad.js è una copia locale vedete che siamo offline che cosa ci sta sotto? Sotto ci sta un server web scritto in Rebol web server basato su httpd eccolo poi ci sta una copia locale delle librerie JavaScript e una copia locale di Repel Pad nella cartella R3 console eccolo c'è una pagina di gestione delle app eccola qui che permette di cancellare delle app e di installarle adesso reinstalliamo la console però dobbiamo prima andare in rete prima vi ricordo che eravamo offline ora reinstalliamo la console dall'elenco delle app disponibili ecco siamo in rete e reinstalliamo e poi possiamo installare anche altre app basta scegliere il nome che comparirà nell'elenco e poi indicare la sorgente che può essere un ripositorio GitHub oppure un file zip ecco cerchiamo però di scriverlo giusto scusate la tastiera è sicuramente il collo di bottiglia dello sviluppo su cellulare ok creiamo una copia delle rencilib che troviamo su R3N scelto il repositorio si installa e compare nell'elenco vabbè dietro le quinte è stata creata una cartella sotto la directory apps ecco vediamo è stato creato rencilib e contiene una copia di quello che troviamo su R3N tutto questo funziona grazie a file reble install.reb e delete.reb che girano lato server come se fosse il famigerato PHP però invece è reble ok reble server può interpretare al volo dei file in un dialetto reble e presentarli come HTML vediamo per esempio questo formato rem reble markup è un mio formato proprietario qui è rappresentato come HTML ma il suo sorgente vedete è codice reble ricapitoliamo l'architettura di reble server questo è il lato client con gli strumenti che abbiamo a disposizione questo è il lato server che ci fornisce l'accesso al file system i dialetti on fly e in un futuro forse l'accesso alle risorse Android ok questo è tutto bene ragazzi un caro saluto buon lavoro e in un futuro